Cerimonia questa mattina al Sacrario Militare del Cimitero di Sassari, con l'omaggio ai Presidenti della Repubblica Antonio Segni e Francesco Cossiga. Noi oggi viviamo una comunione di fraternità con i nostri fratelli e sorelle defunti, che con noi condividono la fede. Così l'Arcivescovo di Sassari, Monsignor Gianfranco Saba, ha commemorato i defunti nel Sacrario Militare del Cimitero di Sassari. Questa celebrazione interforze è una celebrazione nella quale si ricordano anche uomini dello Stato, che hanno offerto la propria vita per il bene comune, ha proseguito Monsignor Saba. Il bene che ciascuno di noi opera nella vita terrena è un contributo all'edificazione del Regno di Dio, un contributo all'edificazione di un Regno di pace, di giustizia, di bontà e di misericordia. Al termine della funzione religiosa, concelebrata dal cappellano militare del Comando Brigata Sassari, Don Pietro Murgia, le autorità hanno deposto alcune corone dall'oro sul monumento ai caduti all'interno del Sacrario Militare e sulle tombe dei Presidenti della Repubblica Antonio Segni e Francesco Cossiga. Alla cerimonia, che ha visto schierato il picchietto d'onore interforse composto da militari della Brigata Sassari e dei Corpi Armati dello Stato, erano presenti le autorità cittadine, militari e politiche Mario Segni, Arturo Parisi, il Rettore Gavino Mariotti, il Presidente del Consiglio regionale Michele Paes e il Prefetto Maria Luisa d'Alessandro, oltre alle associazioni combattentistiche d'arma e i familiari dei militari sardi caduti in e nelle missioni di pace all'estero.